... Molto spesso noi parliamo di amore, ma di quale amore ci sta parlando Paolo in quest'inno? Non è l'amore di amicizia, che conoscevano benissimo i greci, ma è l'amore pieno, totale, è l'amore che non conosce confini e limiti. Grazie per la visione! 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 Ma l'amore, sapete, caro Mario Ilenia, non è fine a se stesso, attraverso l'amore coniugale insegnate a tutti noi, a tutti noi che siamo battezzati, che Dio ci ama e voi dovete essere il riflesso qui sulla terra dell'amore con cui Dio ama ciascuno di noi.